C'è chi però attacca direttamente il presidente Putin chi evita di nominarlo. I partiti italiani condannano unanimemente le violenze in Ucraina. La diplomazia a chance solo se ora isoliamo Putin e la Russia è la posizione del leader del Partito Democratico Enrico Letta che fa nomi e cognomi. Aggiungendo, sulla guerra russa in Ucraina confesso che in questa fase non sono interessato al dibattito storico che pure un giorno andrà fatto, ma l'invasione non è scusabile con nessuna ragione storica e di una gravità senza fine. Il M5S è compatto ed esprime un unico indirizzo politico di ferma condanna dell'aggressione russa, fa ecco Giuseppe Conte, invocando una risposta forte e incisiva e appoggiando il lavoro portato avanti da Draghi. Negli anni dei miei governi dice ho sempre sottoscritto ai Consigli europei il rinnovo delle sanzioni per la violazione degli accordi di Minsk. Il presidente Draghi sta giustamente portando avanti il confronto in sede europea. Le sanzioni alla Russia devono trovarci compatti e risoluti, perché è impensabile modulare una risposta unitaria guardando alle rispettive convenienze dei vari stati membri. Saremo l'altezza di questa nuova sfida solo se resteremo uniti e solidali all'interno dell'UE. Grazie. 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 Grazie.